Sì ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale come prima cosa vi ricordo subito se vi fa piacere se vi va di iscrivervi al mio canale cliccando il tastino che trovate sotto al mio video e attivare la campanella in questo modo sarete sempre aggiornati con una semplice mail ogni volta ci sarà una nuova uscita sul canale che vi aspetto anche su instagram trovate il link nesora impressione, il link diretto sull'info box è un social molto più attivo e quindi avremo modo di interagire e conoscerci di più rispetto al solo canale vi aspetto anche sul mio profilo per le piante perché ha la mia stessa passione e su tiktok trovate sempre tutto nei link di riferimento sotto nell'info box spacchettamento chain, anche stavolta devo dire che sono stati abbastanza veloci non ti danno più una data, ti dicono solo circa 8-12 giorni vi posso dire che io l'ordine l'ho fatto vediamo se me lo dice da lato vediamo se clicco la traccia no va bene, il 20 giugno ci sono stati messi i dati di spedizione quindi intorno a quella data oggi è 28, quindi ci ho messo 8 giorni perfetto c'è un po' di tutto, ho messo delle cose non giochi per gatti ma una cosa utile per i gattini per me più a mia sorella, stampi in silicone, anzi il prossimo ordine, già vi avverso farò tutto stampi in silicone per resina perché voglio fare un bel po' di lavoretti infatti vi aspetto su tiktok comunque un po' ho messo un po' ho messo anche se ho spiegato qualche stampino e quindi niente, direi di cominciare subito vediamo se trovo questo, eccolo qua questo è uno stampo rettangolare per fare tipo un sottobicchiere un portacenere insomma, perché viene comunque con il bordino in pratica e questo l'ho pagato 88 centesimi qui ce n'è un altro questo, ah, bellissimo questo questo qua con il sole e la luna non si vedrà mai da qua vi faccio vedere nell'immagine eccolo qui, col sole e la luna e questo l'ho pagato 66 centesimi niente poi abbiamo le farfalline vediamo un po' se le trovo ok, chiaro la stanno, le farfalline foglia tutti i pezzi di bottiglia due ah, farfalle forse saranno queste 80 centesimi sono 40 pezzi farfalline sempre che userò sia per la resina ma anche per il video creativo che vi potrete oh, questo è bellissimo questo, mamma mia quanto volevo questo stampo e ci farò cose bellissime quindi mi raccomando vi aspetto tutti i tocchi e questo l'ho pagato 74 centesimi poi andiamo avanti e abbiamo la manina di Fatima che è l'inanche questa la manina di Fatima che ho pagato invece sempre 66 centesimi guardate che belle come ripienita all'interno mi sto aspettando mi manca solo la maschera per proteggermi dall'effetto chimico che può andare nei polmoni mentre si mescolano i prodotti e poi posso iniziare a fare i lavori mi dovrebbe arrivare su mani la maschera il gattino pensavo che era più grande il gattino questo l'ho pagato 74 centesimi è proprio minuscolo minuscolo è carino lo stesso poi abbiamo questo per fare gli orecchini il portachiavi ma no ma che carino c'è la foglia allora da qua si vede meglio la foglia della maschera il gameboy il simbolo dei cuccioli la luna con la stella troppo carino anche la music cassetta e questo l'ho pagato 92 centesimi poi un altro questo sempre per fare gli orecchini a forma di foglia a medaglione così e questo l'ho pagato sempre 92 centesimi sempre per gli orecchini questo 80 centesimi perché sono piccolini e questo poi dovrebbe essere l'ultimo per gli stampi per quest'ordine che sono invece per per fare i medaglioni con i segni zodiacali quindi troviamo ariete anche la costellazione quindi sono carinissime e questi li ho pagati 1,9 euro poi mi sembra che per quanto riguarda gli stampi abbiamo finito ma non per le cose creative perché qui abbiamo 40 pezzi fiori farfalle un po' misto questo qui non so come farvelo vedere non so come farvelo vedere vedete che belli che sono sempre per resina quindi questo quindi questo ho pagato 80 centesimi poi abbiamo i merletti passere dopo questi qua che sono li ho già presi da amazon e sono tipo bottiglie vasetti per riempire poi con quei fiori appunto e creare delle belle composizioni eccole qua pratica e anche questi si possono fare comunque anche dentro la resina e questi li ho pagati 1 euro e 9 centesimi poi ho preso i merletti da attaccarci sopra proprio come vediamo qua vedete e i merletti li ho pagati 92 centesimi dice sono 30 pezzi che li mi anche questi però si possono fare anche per fare le bellezioni di resina le farfalle dell'inizio eccole qua le avevo pagate 92 centesimi poi per gli attivini che ne vi dicevo ho preso ah ci sono anche le foglie ovviamente anche le foglie sempre tipo stigerson trasparenti e queste le ho pagate 1 euro e 27 sono 40 tipi di foglie diverse questo è un altro stante ah un altro circolare piccolino un po' più piccolo dove sta questo ho fatto vedere ah eccolo qua 52 centesimi poi vabbè direi di far vedere questi che sono le plastigine da mettere su divani per evitare che i gatti buchino e siccome l'ho preso l'altra volta e funziona perché dove l'ho messo Elsa non va più ora ne ho preso uno per mia sorella perché anche lei ha un divano nuovo e già lo sta rovinando e uno e lo voglio mettere in cameretta di Nicholas perché ha messo la mia mamma anche se dobbiamo rifare la cameretta nuova però intanto mi perde tutti i pezzettini d'ecopelle che detesto e quindi ho preso uno per me e uno per mia sorella e le ho pagate 1 euro e 46 l'uno e queste sono un taglio diverso io ho preso la M speriamo che è abbastanza lungo per mia sorella sicuramente abbassa speriamo che è abbastanza per me e adesso passiamo agli ultimi due pezzi se dovrebbe stare questa cosa in realtà eccoli ho preso anche queste che si applicano alle creazioni in resina per farle diventare appunto giondoli e quant'altro e sono 200 pezzi li ho pagati 55 centesimi li ho presi argentati per ora e poi ecco adesso gli ultimi pezzi abbiamo un costume che se Dio vuole non me neanche ce ne andiamo la prima volta al mare anche noi e questo l'ho pagato 5 euro e 59 centesimi vi faccio vedere com'è carino questo è il pezzo di sopra che viene leggermente velato in trasparenza per aprire le cicce ho preso una M fammelo misuro vi faccio vedere anche indossato dalla modella che sicuramente è meglio e poi il pezzo di sotto che è copri pancetta vedete una M bello dai sarà un po' più sgambato dietro era meglio un po' brasiliano mi piace non ci abbiamo più vent'anni e vi faccio vedere indossato da una bella guayona eccolo qua sarebbe questo che comunque trovate in saldo a 8 euro un costumino e poi ho preso uno zainetto perché se era rosso io ormai mi trovo bene con lo zaino quando esco e l'ho pensato questo perché è fiorato è carino per l'estate dovrebbe essere in tessuto quindi non troppo pesante quindi per ora che faccio ho preso questo e tra l'altro stava anche super super sfontato l'ho pagato 4 euro e 78 però stava a 7 euro e 75 è carino dai inarato ha una taschina davanti anche dentro ah anche due taschine qua ma che carino che ha anche due taschine piccoline qui ai lati le bretelline si regolano dietro non ci sono zitto vediamo dentro come è fatto una zitta perfetto vabbè semplice ma carino dai per questo periodo va più che bene perché quello che avevo io era anche troppo pesante diciamo e quindi questo era l'ordinuncio che ho fatto ne farò sicuramente un altro in questi giorni saranno quasi costruzanti però voglio cominciare a creare un po' di cosucce mi farò anche una pagina facebook quindi non ci puoi troverete comunque certamente infobox e link per la vendita dei prodottini per essere interessati vado a fare aziende sotto i bicchieri a settembre come ci avevamo anticipato ci sarà un super regalo di conflanno per le cose creative per personalizzare tutto quindi vi aspetto anche lì niente fatemi sapere cosa ne pensate di questo ordinuccio se vi piacciono le creazioni di resina qualcosa in particolare se volete come al solito non lo chiedete vincere l'inche e quindi come al solito ci vediamo la prossima volta con un altro spacchetto a sceme spacchetto a sceme spacchettamento a sceme ciao